Non so quello che si vedrà ma oggi sono nelle miniere, l'ex miniere di Oia che si trova vicino a Nicco Guardate qua che roba allucinante, guardate quanto siamo grandi noi con Giappotour, guardate qua guardate quanto sono grandi le persone e guardate quanto è alto tutto il soffitto queste miniere venivano usate appunto per l'estrazione della roccia tra l'altro nel 1922 quando è stato fatto l'impero hotel di Tokyo la roccia che veniva qua, che è stata usata veniva da qui inoltre in questi corridoi qua durante la seconda guerra mondiale erano grandi e riparati e costruivano gli aerei gli aerei da guerra, scusate al momento mi cade il telefono ti senti a casa perché? Napoli sotterranei No, Napoli sotterranei, guardate che roba, mamma mia Dopo un'introduzione della miniera entriamo in questo posto, c'è un freddo qui dentro tremendo e si scende giù parecchio, grande, qui siamo a Moria cavolo, del signore degli anelli, guarda che roba mamma mia però è grosso effettivamente, è grande, guarda che roba c'è il palco qualcuno si vuole esibire qua, qualcuno ha una stand up comedy, vuoi cantare? No, 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 grazie, grazie Fa troppo freddo la nonna Viene anche bene, guarda Che cantare? Il ballo sardo Vai, 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 chi ha che fa la colonna sonora chi la fa? Vai Ma questo è il ballo sardo Oh mia, è il ballo sardo Impressionante quanto è grosso comunque Enorme Ed è stato scavato a mano Facevano dieci pezzi al giorno i minatori Questo è tutto scavato, cioè è chiaro da quando è stato aperto non c'era la tecnologia di adesso quindi è tutto scavato a mano, dopo anche con qualche macchinario sicuramente ma inizialmente, ma che roba Ci ha fatto un evento, ci hanno fatto probabilmente Ah, Enia, guarda, ci ha suonato Enia qui Questa è Enia Ecco, ci hanno fatto anche Forever Love di X Japan, non lo sapevo Questi sono gli scipi Ma anche lei, anche questi sono famosi Guardate quante cose fanno qui dentro No, vabbè, belle Però questo non era dove c'è la luce di là che c'è quella luce No, è di là, guarda, quel buco ora l'ho visto questo scorso qua, guarda, l'ho visto di là prima E' una bella che è questo qui, che non so cosa siano però vabbè, tipo sculture Qua che c'è? Questo pezzo di qua Che bello, che piove, eh? Bello scorcio Poi qui sono state usate appunto, vedete, fino al 1979 Ho fatto il video E quindi uscimmo Ah, di vedere le stelle Finiamo così il video, eh? Dalle miniere di Moria, di Oia Ecco qua La prossima è da Giappone Grazie